Saranno via Mazzini e via Cavour nel centro di Ravenna le prime strade a diventare antisdrucciolo. Il Comune ha deciso infatti di correre ai ripari, visto che ha ricevuto già quattro richieste per danni per cadute in bicicletta, a causa della pavimentazione scivolosa di alcune strade del centro, ormai consumate lisce, specie nella striscia centrale in pietra di Apricena. L'intervento di messa in sicurezza costerà 84.000 euro e ha già ricevuto il beneplacito della sovrintendenza. Lo scopo è quello di restituire alla pietra la sua originaria rugosità grazie ad un intervento di bocciardatura. L'intervento ha la finalità di rendere meno scivoloso la parte centrale di queste vie attraverso un trattamento antisdrucciolo. Le lastre di Apricena sono chiaramente molto belle da vedere, però soprattutto nei casi di maltempo possono provocare una scivolosità importante per cui abbiamo deciso tramite questo trattamento di intervenire. Abbiamo già fatto una prova, anche dal punto di vista visivo non è impattante, c'è l'ok della sovrintendenza per cui interveniamo o cerchiamo di rendere più tranquillo quel tratto di strada. La spesa sarà di 84.000 euro. Quando cominceranno i lavori? I lavori inizieranno verso settembre. Partiamo da Via Chiavura e Via Mazzini e poi dopo vedremo se applicarlo anche in altre parti del centro.